Questa mattina sono stato a casa della famiglia, della mamma, della sorella. L'impressione è che si tratta di un grosso equivoco, la speranza. 23 anni, la sua passione è sempre stata quella di viaggiare e girare il mondo. Ilaria De Rosa, hostess di Resana, è stata arrestata lo scorso 5 maggio in Arabia Saudita. La famiglia non ha più avuto notizie della figlia, il cellulare irraggiungibile. Così è stata allertata la farnesina. La notizia è piombata a Resana come un fulmine a ciel sereno. Ilaria si trova dietro le sbarre. La farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all'arresto, è in contatto con le autorità saudite, alle quali ha chiesto l'autorizzazione per una visita consolare in carcere. Visita che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, intanto per la famiglia sono ore di apprensione. Tanta apprensione, sicuramente tanta tanta apprensione, perché comunque non hanno notizie, non riescono a parlare assieme, quindi aspettano notizie e sono là in attesa. Sono paesi lontani, qui regole diverse, culture diverse. Il consulato italiano a Jedda è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare ad una soluzione positiva della vicenda. È una ragazza solare, ci racconta il sindaco. La ragazza è una ragazza che, da quanto ho capito, ha girato il mondo, nonostante i suoi 23 anni, è esperta di paesi anche esteri, perché comunque era tre mesi che era là, quindi è una ragazza che... Speriamo di avere notizie quanto prima positive, che possa tornare a casa a riabbracciare i suoi familiari, i suoi amici che sono qua in Italia. La famiglia intanto si è chiusa nel silenzio, in attesa di poter riabbracciare Ilaria. Grazie a tutti.